Super eroi, super eroi, oggi saremo dei super eroi Oh mio Dio Stef, sono felicissima, io adoro essere un super eroe, l'ho sempre desiderato, sono super felice oggi Sì ma ti devo mettere già in difficoltà, devi scegliere un solo potere Fere, ne devi scegliere soltanto uno Non li posso provare tutti Ne potrei usare soltanto due tu e due io Quindi per ora ne devi scegliere uno, inizia a guardarli attentamente e decidi So che non sarà semplice decidere, però lo devi fare Fere È la prima parte che tu devi fare Tu chi scegli? Ho già scelto Tu chi scegli? Io scelgo lui, io scelgo lui perché ha un potere incredibile, guardami Oh mio Dio sei bellissimo Vuoi vedere il mio potere? Sì Sei sicura? Sì Oh mio Dio Stef dove sei finito? Stef sei veruscolo, vabbè giustamente sei Guarda il mio schermo, ti vedo gigante Sei una formichina mi sembra giusto, è fantastico Guarda come saltella Guarda riesco a passare anche in mezzo a lievi, riesco a passare in mezzo a qua Anche nell'acqua riesci ad andare Stef? Aiuto Riesci a nuotare? Fere? Stef ti devo raccogliere Ecco, ecco Tutto a posto Tutto a posto Devo abituarmi al mio potere, è troppo forte Hai scelto Fere? Flash Flash? Vai sul classico? Flash Io adoro Flash Sei vestita anche in un Flash Fere, porca miseria Cosa vuol dire? Che sei stata velocissima a metterti la tuta E beh perché non sono come te Stef Comunque ti sta male Stef Vuoi combattere? Tanto non so neanche Siamo già qui Esatto, non so neanche i tasti Perché li ho scritti qua in un foglietto Perché sono tanti i tasti Quindi li proverò Beh, hai provato a premere shift? No Prova Flash Sono un Flash rotto Stef No, io credo che tu non sappia usare i tuoi poteri A differenza di Ant-Man che è fortissimo E ragazzi, come va? Io sono Fere E questo Stef Perché se giochiamo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft In cui proveremo com'è vivere da supereroi Giustamente Stef Oh yes Oh yes Allora Fere hai scoperto come si corre alla fine? Eh no No Dico la verità Allora vediamo un pochettino Premiamo i tasti che ho scritto qua Ok Ok, ora sto correndo Mi sono incastrato Stef, aiuto Aiuto Allora, eccomi qua Guarda come corro Non mi vedi più Stef Non mi vedi più Guarda, lascio la scia Sì Lascio la scia Sì Sto andando Mi dice anche la velocità Sai a quanto sto andando Stef? Ah ah 200 km orari Una velocità che tu non puoi neanche sopportare Perché esploderesti Stef Aspetta, la disattivo un attimino Perché mi devo calmare Eccomi qua Eccomi qua Lasciamo la scia? Da vedere Perché non la vedevo la scia? È bellissimo Betienne Ok Corri un po' in giro Guarda il mio schermo Ok Vai Ci provo? Oh mio Dio Ma proprio come il vero Flash Sì C'è identico Sì C'è da dire anche che Stef È molto faticoso correre così Ho solo tre polletti Sto già cuorendo di fame Sto letteralmente Come nel telefilm Che infatti doveva mangiare fisso Aveva inventato delle barrette Delle cose speciali Beh, perché giustamente Bruci un botto di calorie Sì Allora, anche io voglio provare Un pochino a tutti i miei tasti Vediamo cosa succede se premo Jay Ok Nulla Nulla Perché abbiamo un sacco di tasti Ma non sappiamo mai Quali funzionano Nei vari personaggi Ok Ok Io credo che il mio potere Ma tutti puoi solo rimpi Ma Potrei attaccare E fare qualcosa Stef Beh, credo Mi ha dato un colpetto Mi ha dato un colpetto No, per niente Non mi ha tolto neanche metà cuore Sicura? Ora sì Ora sì Ora sì Ma Allora, vediamo un pochettino M Mi è successo qualcosa Cosa hai fatto? Non lo so Perché ha un effetto strano Tipo? Però non so Cioè, ce l'ho segnato alla destra Un'iconcina E cosa ti dice? Niente Voglio qualcuno che quasi di sicuro combatte Sai chi voglio provare? Mh Rimanendo sempre in tema di Flash Killer Frost Lei tecnicamente ghiaccia Fa delle magie Quindi qualcosa Ma lo deve fare Io non l'avrei mai presa Io sinceramente non l'avrei mai presa Io mi prendo Sei indecisa tra Iron Man Carina, Stef Mi stanno bene i capelli biondi Sui capelli rosa? No Come no? No Ma sei triste? No Leggi con Shift che cosa ti dà Così almeno se già che poteri hai Ok E soprattutto se cambiartelo subito Io vado di Iron Man Vai Oh yes Oh yes Allora Bellissimo Che c'è? Cosa può essere secondo te? Il cryokiness Non ho idea Ok E poi ovviamente Il caldo mi indebolisce Perché sono Killer Frost Ok Prova a fare Tasto destro Con questo lo ricarico Guarda Ricarico una barra Ok E mi si ghiaccia la mano Non so se tu lo vedi Sì E bam Ok Guarda E bam Lancia le scheggi di ghiaccio È bellissimo E tu lo vorresti mettere a paragone Con questo Davvero C'è tu È fantastico Allora È fantastico Aspetto Guardami Mi stai guardando in faccia Sì un attimino Stavo provando Ciao Ma ti puoi togliere Che me lo metto Aspetta ho bloccato Il pc Ok Rieccomi Piano Calmati Fallo piano Ehi Sono Steph In realtà sono io Iron Man Bellissimo Però Non è il mio unico Ah prima di tutto Smettila Così comunque lancio sempre Ok queste sono piccoline Però posso caricare Vedere Hai visto No L'Aeroman è comunque il più bello di tutti Scusa Eh ma è ovvio È sempre così Ma perché ho scelto Killer Frost Volevo Iron Man Ma lo sapevo che avrei dovuto scegliere Iron Man Accidenti Aspetta 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 Perché i miei poteri non sono ancora finiti Guarda Come? Ma stai quello che ne ha Oh mio Dio Tu sei uscito dall'armatura E rimane a picchiarmi Sì E se premo il tasto destro Lo riapro E ci rientro Dovrei caricare il colpo Boom Eh bello Bello Allora Quindi praticamente Io premo Jay E ne esco fuori E lui picchia Ok No smettila Io mi cerro vicino Guardate come si apre Prendo E rientro dentro E riprendo il potere È una roba incredibile Allora io ne voglio provare un altro Ma Fede Stai già andando entro alle regole Sì Non ti vergogni almeno un po' Steph Eh Riesci ad aprirmi questa cesta Sì Perché io lancio cose Con il tasto destro Non riesco ad aprirle Mi prendi la mia arma Grazie Grazie Ok Questo ovviamente è il classico rampino Aspetta Però devo provarlo su qualche struttura Sembra Uno di quelli che si restano per carnevale Con il vestito dei cinesi di Batman Perché mi sei prendo in giro E che corre in giro così Aspetta Mi vedi Mi vedi Steph Sto pezzolando Certifico Ok Aspetta arrivo anche lì Eh vabbè È un supereroe imbarazzante Ok aspetta Tu questo non lo sai fare Cos'altro sai fare scusami Allora poi ho visto che con tasto destro Lancio queste specie di Caramelle No di shuriken a forma di Batman Vedi Giustamente sono a forma di pipistrello Ok 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 Cos'è sta roba Non lo so fare Ah forse cambi la cosa da lanciare Sì Oh mio dio Aspetta Questo che cosa fa Ok Questa è una smoke bomb Ok Nessuno mi vede più Poi lancio gli shuriken E poi lancio questo Che ghiaccio Lancialo però Lancia Non la tira Vabbè Fammi Aspetta Aspetta È scarico Steff È scarico Finita Aia Ma la smetti Ma l'ho fatto io Me l'ho fatto in ritardo Eh certo Ah ecco perché me l'ho fatto in ritardo Perché qui in alto a destra Vedo più che si ricarica Quindi cambia arma Un tempo molto lungo E ti toglie il cooldown Perché hai altro Ok Sì però ovviamente Il tempo di ricarica Non è che sia zera Queste sono belle Non mi vedi Dove sono Steph Dove sono Dove sono Basta volare Vabbè Ciao Vediamo gli altri tasti Ok Aspetta Aspetta Beh non faccio danno Non posso tipo Ricaricare il potere tantissimo Fermo Steph Allora la M fa pressa poco La stessa cosa Con la differenza Che mi metto Fire immunity Properly deflight Repute surblast Overing And metal skill Punch damage Più 6,5 Quindi Che fai Steph? Non faccio danno Allora io con questo Ho messo una modalità Che mi dovrebbe permettere Di picchiare a pugni Ti faccio male? O non troppo? No perché io ho l'armatura Davvero terribile In quel costo T'avevo detto Sembra un costo Dei poveri Vero? Ma non è vero Non sono un costume Dei poveri Dovrebbe stare meglio Invece non mi stanno Vabbè comunque Ancora io non avevo volato Un po' Quindi scusate Ma è ora di usare Il mio potere Come si deve Volare Ti raggiungo Steph Ti raggiungo Ti raggiungo Ti raggiungo Dove sei? Come Iron Man Che però Picchia male Perché sono Ma vado Tra i palazzi Guarda che rampino È formidabile Guardami Sembro Spider-Man Sembro Spider-Man Più che Batman Sinceramente Sono molto Guarda io invece Ho imparato A volare Un po' Pazzo La lontana Mi ci sono schiantata Di faccia Dicevo Guarda il mio schermo Ho imparato a volare Un po' in tutti i modi Ad esempio Volo dritto Vedi Questo qua è un po' Come se fosse Capito Quando nuoti Però a stile libero E poi ho imparato Il dorso Vedi Hai visto invece Come si userebbe Nel rampino Stef Sì 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 È proprio un talento Sei nata a portata Per usare Ma come faccio? Dove è finita Dall'armatura? E che ne so Ferre Lo sei tu Dove è finita? Io l'ammazzo Ma come mi ammazzo? È il supereroe peggiore Che abbiamo mai visto Non è vero Stef È qua È qua L'ho trovato No Flash era mio però Io mi prendo Iron Man Io mi prendo Iron Man Sì peccato che ce l'ho Nell'inventario Iron Man Sei disgraziato Non mi puoi rubare tutto Stef Non puoi Io l'odio Io l'odio Ciao Ok Allora Questa qua era la versione Formula 1 Adesso Mangiamo un po' Mi viene da fame Ok Teoricamente C'erano dei poteri per Flash Se ricordo bene Il Flash Ring Se noi indossiamo questo Flash Ring Cosa è successo? È per mettere e togliere l'armatura Come nel telefilm Eh beh Sì giusto 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 Io sono uno Stef normale Ma adesso sono Flash Adesso sei Flash Ho i poteri anche no 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 Non è sempre stato troppo Peccato Vuoi provare i miei pugni Stef? Vai va bene Allora io ho pugni fortissimi Si vede Allora sui mob avevano tanto effetto Su di te no perché è quell'armatura Quindi levatela col tuo anello Ok Vediamo se adesso posso picchiare uno Stef Con i miei pugni T'ho fatto male Eh ora t'ho fatto male E ti ho sbalzato Si vedi C'ho i pugni forti Stef Tu non hai i pugni forti Poi ti tiro anche questi Cosa farà questo? Se che me permette Aspetta Ok Se io faccio così No vai via Sto provando C'ho i pugni forti Non mi toccare No non capisco Adesso facciamo una cosa Stef Aspetta No Divento l'anti-flash E tu sei morto Allora vediamo un pochettino Vediamo un pochettino Super speed Enhanced reflexes Cellular regeneration Accelerated Percipation Ah Stef Non faccio No l'anti-flash Ti devo uccidere A quanto vai? Molto più veloce di te Quanto? 250 km orari Aspetta Io vado a 150 Ma L'anti-flash è più veloce Ma l'ingiustizia Vieni qua Infatti da un botto di Facciamo la ristasite Aiuto Dov'è? Caduto in acqua Qui giù Eccomi Eccomi Allora ok Quindi sono super veloce Con questo tasto L'hai capito Che c'è da tuffa M? Cioè l'hai capito? Vedi che sono andando a rallenti Ah Anche io Ah ma allora è questo effetto Ma l'hai messo tu o l'ho messo io? L'ho messo io Ho capito adesso Sei quello Steve Che ti dicevo che ti trascina Con M Aspetta L'ho tolto Infatti torniamo normali Quindi possiamo fare Aspetta Aspetta Ci corriamo incontro Poi premiamo M Andiamo a rallenti Aspetta Aspetta Però corri dritto Quindi devo attivare la corsa Ok vai Ok Sei pronto? Sì No però dove sei? Dobbiamo correreci contro Andiamo verso qua Ok vai 3 Oddio 2 1 Via Via M Guardaci Come nel film C'è il telefilm Perché noi abbiamo visto il telefilm C'è il prete quando combattono Tutto il rallentatore Vieni qui Picchiamoci brutto flash Oddio non cadermi l'acqua Ti ho preso in pieno Non abbiamo Un altro pugno Non ti flash Non perderò mai Sono troppo forte Invece poi alla fine perde Spoiler Perché se ne decidessi Lasciateci un like Adesso la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.